Pareggio tutto sommato giusto tra Acqua e Sapone e Vispianella. I padroni di casa ci hanno provato di più ma non sono riusciti a concretizzare le occasioni create. Il Vispianella comunque non ha rubato nulla. La prima emozione della gara è al 14esimo la botta su punizione di Delgrosso. Trova attento il portiere dell'Acqua e Sapone, Dottavio Antonio. Al 16esimo rispondono i padroni di casa con Sfamurri, ma il suo pallonetto è alto. Al 35esimo ci prova ancora Sfamurri, stavolta da calcio piazzato, respinge Morretti. Al 43esimo la svolta della partita, rigore generoso fischiato per un presunto fallo di Luciani su Scarponcini. Dal dischetto di Biase non sbaglia, 1-0 per l'Acqua e Sapone. Al 44esimo nel secondo tempo dopo sei minuti arriva il pareggio del Vispianella sul cross da destra e decisivo. Il colpo di testa di Palmerini, 1-1 al sesto minuto della ripresa. Al decimo grande occasione per l'Acqua e Sapone per riportarsi in vantaggio. La conclusione di Marracino, deviata, finisce fuori. Dal susseguente angolo il colpo di testa di Gasparroni viene respinto all'ultimo da Morretti. Al 29esimo palla filtrante nell'area dell'Acqua e Sapone, Dottavio Antonio in uscita, disperata, riesce ad anticipare il neoentrato evangelista. Al 40esimo diagonale di Di Paolo, Morretti non si fa sorprendere. Al 42esimo ancora Di Paolo, crea scompiglio in aria. D'amico alla palla buona, ma il suo tiro viene respinto. La pressione finale dei padroni di casa non sortisce effetto. La partita si conclude sull'1-1. Mister Naccarella, 1-1, un pareggio giusto? Visto dare tutte e due le parti, credo che ognuno tira la sua. Noi abbiamo provato un po' di più, sicuramente. Abbiamo avuto maggior tenuta della palla. Sicuramente abbiamo avuto un predominio in quel senso. Però sicuramente loro non hanno rubato niente nel pareggio. Noi forse potevamo concretizzare di più la mole di gioco che abbiamo avuto. Oggi non è entrata su certe situazioni. Abbiamo avuto quei rimpalli che un po' hanno portato la palla a uscire. Però la prestazione è stata positiva. I ragazzi hanno dato tutto, che è quello che mi interessa sempre. Mister, un punto importante, una gara equilibrata. Come commenta? Sì, sì, è un punto importante. Poi abbiamo giocato contro la quarta forza del campionato. Quindi era importante per noi fare un buon risultato. Penso che il risultato, comunque, tutto sommato sia meritato. Anche se loro negli ultimi minuti avevano qualcosa più di noi e ci hanno messo un po' in difficoltà. Però pure per come è venuto il primo gol loro, alla fine penso che sia meritato questo nostro punto qua. Ecco, sul rigore forse c'è qualche dubbio. Guardi, ho parlato con il mio giocatore, insomma, adesso a bocce ferme mi poteva anche dire se l'ho toccato, ho detto che ho fatto un bel tuffetto, però... L'errore è partito prima quando l'hanno fatto uscire fra tre persone. Riuscita ad uscire palla al piede, l'errore principale è là, poi in area l'arbitro può sbagliare anche lui.